Poco dopo le 4.30 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brenta a Curtarolo per l'incendio di un box in lamiera con all'interno due auto che sono andate completamente bruciate. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono accorsi i pompieri da Cittadella e con i volontari di Borgorico presenti tre autopompe, un autobotte e dieci operatori. Hanno spento le fiamme delle due auto evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. Sul posto erano presenti anche i carabinieri. Le cause dell'incendio di probabile natura elettrica sono al baglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono proseguite per ore e sono terminate alle 7.30.